Saliamo, 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 agressivi! Saliamo, saliamo! Saliamo, saliamo! Oddio, oddio! Bravo André! Calcio da... Arbitro, arbitro, bocci stava di 5 metri però eh! Cioè se tu stai a 80 metri dalla palla è normale che non lo riesci a vedere, Dio buono! Portalo fuori! E' fallo! E' fallo quello! Ha accorciato le distanze 5 calcinando si è fatto così! 5 ne hanno battuto così! Ha accorciato le distanze eh! 5 ne hanno battuto così! La Vallè a Ventino Stai fermo! La Vallè a Ventino